Deve attaccare, non deve difendere! Papà, fai parlare il mister? Il mister! Il mister non capisce niente! Ma anche tu quando studiavi hai occupato l'università per protesta? Che te l'ho detto? Mamma! Stai benissimo! Ok, lo compriamo! Allora come sto? Non è un po' troppo scollato, un po' corto! No! È che... andiamo via, va! Camminiamo! Ragazzi! Perché la sua musica è chiusa? Te ritrovo la nuova Preside! Però vi avviso, la musica è cambiata! Tutte le attività estrascolastiche saranno sospese! E allora se non posso suonare non vado neanche a calcio! No Cristian! Calcio e studio! Se te la metti contro, per te sarà un inferno fino alla maturità! Alex, abbiamo deciso di mollare! Sciogliamo il gruppo! La cosa migliore per tutti! È qui per i provini? Sì! Ci fai sentire qualcosa? Per l'iscrizione al concorso, la deve firmare la Preside! Se continua insieme, e chi se ne frega delle conseguenze! Come va! Questa è la mia salute! È una mia salute! È un po' di più! La mia salute! C'è la mia salute! Lo sposa! Quando è che tu si fai, non mai le dimenti! La mia salute è la mia salute! The music's my way to fly away Hai spento te per creare l'atmosfera? No, no, hanno proprio staccato la luce I'm sitting down here, right in front of you L'anno scorso c'avevi insufficiente in tutte le materie E quest'anno sono in cinque Ma facciamo un bel brindisi Bravo, bravo, bravo